L'esigenza oggi è quella di informare e informare in maniera puntuale ma in maniera reale su quello che è lo stato dell'arte, sulla situazione complessiva di legno chimica e sulle azioni che l'amministrazione sta portando avanti. Azioni che hanno portato anche con il supporto del Consiglio Comunale e del deliberato di qualche mese addietro ad un'avanzata fase verso la bonifica dei laghi perché è di questo che si sta parlando in sede di conferenza dei servizi. Ovviamente l'incendio ha creato ulteriori elementi di attenzione e di preoccupazione che però stiamo costantemente monitorando. Io non voglio dire che questo debba essere un momento di minimizzazione o di dare tranquillità laddove questa non sia fondata. Credo che sia il momento di dare le informazioni giuste proprio per evitare che magari allarmismi eccessivi possano pregiudicare quella che è la linea dell'amministrazione che è quella di tentare e di fare tutto quello che è possibile per portare a termine l'opera di bonifica nei termini ovviamente che le situazioni saranno verificate in concreto. I tempi sono definiti un po' dal codice ambientale, sono tempi che prevedono questa prima fase che è quella della caratterizzazione, cioè sostanzialmente di capire che tipo di situazione di pericolo e di rischio viene riscontrata e poi passare alla fase della bonifica. Ovviamente rispetto all'incendio abbiamo immediatamente allertato l'ARPACAL che per la verità immediatamente è intervenuta per un monitoraggio dell'aria che ha dato risultati rassicuranti, anche questi vanno portati all'attenzione e vanno comunicati perché credo che anche comunicare cose che tranquillizzino l'opinione pubblica e i cittadini al posto sia un dovere dell'amministrazione.